buonasera occorrerebbe ideare un'applicazione che migliori automaticamente l'opera creata che sia una foto una scena video e così via con un comando vocale ho scritto per esempio senza dover stare più ore al pc con un software di editing per dare la forma creativa che si cerca in questo modo le produzioni di fotografi videomaker e filmmaker sarebbero molto più rapide ed avrebbero una forma più artistica ispirata e cercata grazie appunto a questa applicazione così intelligente da usare tutte le caratteristiche e funzioni a sua disposizione per dare la forma richiesta all'opera con tempistiche e risultati senza paragoni